Quando mettete le mani nel ragù, che vedo sulle mani? C'era l'arriplastica? Sì! È morta Nonna Rosetta, la celebre nonna dei video di Casa Surace, il gruppo di videomaker. La donna aveva 89 anni. Nonna Rosetta era nata a San Giorgio a Cremano nel 1933, ma da tempo si era trasferita a Sala Consilina, in provincia di Salerno, dove peraltro il gruppo fa base. Il gruppo di Casa Surace considerava Nonna Rosetta come una vera nonna. Un grande simbolo del gruppo era la vera nonna di Beppe Polito, uno dei membri di Casa Surace. L'ultimo video, un mese fa, sul risparmio energetico. L'incontro con Casa Surace rese popolare Nonna Rosetta, che è diventata famosa in tutto il mondo, con video che sono stati tradotti persino in cinese e in portoghese, e che hanno raggiunto milioni di visualizzazioni. Nonna Rosetta è stata una casalinga, ma da 7 anni è diventata praticamente la nonna d'Italia, con i video Nord-Sud e con le numerose promozioni del gruppo. Questo, l'addio di Casa Surace. Addio nonna. Ti chiamiamo nonna, perché per tutti noi sei stata veramente una nonna, oltre che la migliore amica. E oggi ci fa sorridere tra le lacrime che ci fa le condoglianze, come fossimo tutti i tuoi nipoti. Siamo sicuri che ora sei da qualche parte a preparare un ragù che più pittirà per tutte le ore che vorrai. E ti salutiamo con le ultime parole che hai detto per la nostra grande famiglia. State a corte, ci stiamo accorti, tranquilla. Ciao nonna Rosetta